Se anche fosse stato nervoso, il giovane e talentuoso Giovanni Zanon, che ha suonato incantando il Petrarca insieme al suo maestro, il pluripremiato Pincus Zuckerman, non lo ha dato a vedere. Ma l'emozione nel concerto omaggio a Brahms, che maestro e discepolo hanno offerto assieme ad Amanda Forsyth al violoncello e George Lee al pianoforte, al pubblico, è arrivata tutta. Emozione sapendo che per Zanon ritrovarsi nella sua città di adozione, Arezzo, per la quale dirige la stagione sinfonica, a fare da primo violino al suo mentore che gli cede lo scettro per suonare la viola, non è cosa da apprendere alla leggera. Eppure, come una brezza mattutina, i due hanno affrontato in armonica sintonia due classici del repertorio cameristico del grande compositore tedesco, l'Opera 60 e la 25, ricercando l'afflato intimistico e neuromantico che tanto seppe opporsi ed affermarsi a discapito del titanismo wagneriano. E non è un caso forse che Zuckerman abbia scelto questo repertorio, prediligendo l'intimismo di Brahms a discapito del roboante Wagner. Lui, ebreo polaco e cosmopolita, che più di una volta si è trovato da artista a suonare in Germania e a non pensare ad altro che a portare la musica come verbo unificatore di culture e di pace. Il musicista, ha spiegato, Zuckerman non fa politica e se la fa usa solo le note e la sua musica e la suona ovunque. E questo è un messaggio di pace, uno squarcio di luce, nell'abisso di epoca oscura in cui viviamo. Ad applaudire maestro e discepolo e gli altri musicisti, anche il sindaco Alessandro Ghinelli, che ha accolto subito il sentimento dietro al concerto. La musica è una arte sicuramente unificante, è un'arte che in questo momento ci deve dare la forza per trovare le motivazioni, per cercare di fare tutto quello che è in nostro possesso, per ridurre il rischio di questa guerra che purtroppo è in atto in Europa. E quindi Arezzo città della musica, Arezzo città della pace.